Bologna era una città abbastanza adatta, piena di contraddizioni, c'erano stati fatti del 77, l'autonomia, era in grande fermento, stava nascendo il Dams e allora scrissi un po' come risposta a Guccini, anche peraltro ero molto amico di Guccini, soprattutto in quel periodo perché ci si vedeva tutte le serie da vita, allora lui c'era questa figura trombonica sempre così da maestro di scuola che in qualche modo diceva come bisognava fare, allora mi divertiva contrappogli invece a un qualcosa di trasversale che fosse crossover in tutti i sensi, che fosse anche trasgressivo, non solo così manifestamente impegnato, ecco allora ci si vedeva la sera e dico adesso senti questa, devo dire che lui non cagava niente, non si accorse di nulla se non quando ascoltò la prima volta, arrivando alle varie canzoni che faceva scordare come profondo normale, lui rimase schiantato, allora disse va bene allora puoi scrivere, grazie